La nostra C5 Aircross La nostra C5 Aircross La nostra C5 Aircross Si destreggia con grande abilità E su strada che il SUV francese Dà il meglio di sé Grazie alla motorizzazione performante ed efficiente E al propulsore Blue HD Da 180 cavalli Con cambio automatico e AT8 E ai numerosi sistemi di assistenza Alla guida Che garantiscono comfort e sicurezza Il nostro itinerario verso Gubbio Ci porta poi alla Basilica di Sant'Ubaldo Che dall'alto del Monte Ingino Domina la città Percorriamo la statale Che si snoda nella gola del Bottaccione E che da Gubbio porta alla Madonna della Cima Una strada dall'andamento sinuoso Che esalta il comportamento dinamico Della nostra C5 Aircross Con i suoi 4 metri e 50 di lunghezza Questo SUV si distingue per la personalità audace Dalle molteplici possibilità di personalizzazione Un'auto che esprime potenza Con un frontale ampio e imponente Il cofano alto Distanza dal suolo e assetto di guida rialzato Volumi fluidi Impreziositi da elementi grafici unici e distintivi L'abitacolo è spazioso e ricercato Inondato di luce Grazie al tetto apribile panoramico in vetro Di grandi dimensioni Gli interni sono generosi E trasmettono una grande sensazione di spazio La plancia si distingue per le linee fluide ed armoniose Il display digitale Configurabile per visualizzare le informazioni di guida E nella parte centrale Il touchpad capacitivo da 8 pollici I sedili Advanced Comfort Offrono morbidezza e sostegno Anche nei lunghi tragitti E dispongono di numerose regolazioni In altezza e in profondità E di un sistema di massaggio multipoint Con la nostra C5 Aircross Proseguiamo il nostro itinerario E da Gubbio arriviamo a Gualdo Tadino Salendo fino all'eremo di Serra Santa A quota 1348 metri Un complesso costituito da una chiesina medievale Con un porticato rifugio Un luogo già santificato dalla presenza di eremiti e anacoreti Che attraverso i secoli hanno popolato le aspre pendici del monte L'AC5 Aircross Affronta senza difficoltà la strada che porta all'eremo Anche in presenza di fondi a bassa aderenza Quando il sistema Grip Control A garantirne la motricità A garantirne la motricità